5 su 5 nel rigoroso segno della concretezza e del cinismo. La polisportiva viaggia come un treno e anche il turno infrastruttimanale sa fare solo quello che finora le riesce meglio, vincere. Quella di ieri sera però è stata una vittoria molto più sofferta di quello che dice il punteggio. Il 4 a 1 infatti dice sì che le leoncelle hanno portato a casa il risultato sfruttando al massimo le occasioni create soprattutto nel primo tempo ma non dice che migliori in campo è stata Maria Giovanna Tempesta il portiere nero verde. La partita infatti è stata complicata per le leoncelle di mister Lorenzo Genchi contro una compagine quella bisceiese che ha pressato per tutti i 60 minuti corso tanto giocato in maniera sbarazzina è creato non poco ma hanno trovato nel numero 1 di casa un ostacolo invalicabile, una sala cinesca superata soltanto da rigore di Dallinia. Alla fine però nonostante i grattacapi, le difficoltà ma anche la capacità di saper soffrire i conti sono sempre di colore nero verde grazie alla doppietta di Mazzaro al guizzo di Russo e al solito appunto di Capitalla Rossa. Insomma quando la qualità e l'esperienza vincono su tutto anche sulle assenze pesanti vedi quella di Sabrina Papapicco. Domenica però in casa della fortissima Altamura in quello che sarà un crocivia per la maturità servirà un altro bitonto.